Siamo in Trading Room in diretta con Luciano che oggi ci segnala sul Fuzzimib un interessante titolo in controtendenza. E' di Asomico, settore farmaceutico. Il titolo è molto interessante perché è in una fase laterale, quindi può essere considerata di accumulazione. E questo titolo ogni qualvolta va sul supporto principale di 113, puntualmente attacca la resistenza posta a 140. Vediamo che è circa un anno che fa questo movimento, molto chiaro. Una volta raggiunto il supporto diventa interessante perché arriva a 140 dove posta anche la media 200. Il titolo in questo momento è in sofferenza rispetto al mercato, è a 119, quindi 113 acquisto, target 140. Se dovesse andare sotto i 113 liberarsi del titolo perché diventa pericoloso.